A Calè pensando che questo sia un piccolo paesino dove si viene a prendere l'eurotunnel o il traghetto e si va in Inghilterra e invece poi scopre che è una città, una cittadina dove ci sono dei monumenti incredibili che se per caso fossero in una città italiana insomma uno non andrebbe fiero. Questo lo chiamano l'hotel de ville ma in realtà non è un hotel. Deve esserci un municipio o qualcosa del genere. Questo è un campanile, mi sembra abbiano scritto in stile Tudor, ricorda quello inglese di Londra. E di fronte un bel giardinetto con i classici monumenti, di là c'è il parco. Beh insomma vale la pena di fermarsi. Grazie. Grazie.